Buongiorno a tutti, sono Francesco Palo Russo, founder and CEO di TubiSRL, startup innovativa che ho fatto nel 2016 e che si occupa di Li-Fi, trasmissione dati tramite luce LED. Nel 2017 abbiamo raggiunto un importante risultato, vincendo la call di TeamVCAP, il programma di open innovation del gruppo Team. In questo periodo di emergenza sanitaria abbiamo creato un team informale di giovani innovatori e così, grazie anche al supporto gratuito di Team che ci ha messo a disposizione l'infrastruttura cloud, è nato il progetto Minerva, anticorpi per il coronavirus. Un assistente virtuale, chiamato anche Chatbot, ha messo a disposizione gratuitamente della collettività, con due obiettivi principali, sgravare i call center istituzionali dalle enorme quantità di conversazioni che stanno ricevendo e smentire le fake news ormai all'ordine del giorno. Il progetto Minerva ha ricevuto l'apprezzamento del Ministero della Salute attraverso una lettera firmata ed oggi è stato adottato da enti, istituzioni e comuni, primo fra tutti il comune di Latina, la mia città. Il nostro appello, adotta Minerva, è rivolto a tutte le istituzioni interessate ad adottare il sistema che ci impegniamo a mantenere gratuito per tutta la durata dell'emergenza.